Brutta avventura per un cittadino ragusano che voleva partecipare all'asta per un appartamento a Caucana ed è rimasto invece suo malgrado vittima di un tentativo di estorsione. Nello studio del professionista presso cui si era recato per presentare l'offerta, l'uomo è stato infatti affiancato da due loschi individui che gli hanno intimato non proprio con le buone di non acquistare l'immobile. Di fronte al dinego della vittima, i toni dei due sono diventati sempre più minacciosi fino a quando, in una seconda occasione, uno dei due gli ha detto chiaramente di essere il proprietario dell'appartamento e che se l'avesse acquistato lo avrebbe fatto fuori. La vittima a quel punto si è recata dai carabinieri che dopo attente indagini hanno chiuso il cerchio e individuato il soggetto. Le manette sono scattate a quel punto per Giovanni Lauria, 45 anni, a Catese, commerciante gravato da alcuni precedenti penali. Le indagini proseguono adesso al fine di identificare il complice e di verificare eventuali responsabilità in capo ad altri soggetti.